salve a tutti ragazzi eccomi qua ragazzi scusate che non sto facendo video perché ho un casino in casa stiamo facendo la pittura nuova non ho tempo per fare i video adesso però vi pare di far vedere scusate perché ho il sole la ciccia dorme ora vi voglio vedere la stanza, vi ricordate? è una stanza vecchia ho fatto le paletti ho messo la televisione nuova e tutto e vedeva ancora arrivare l'armadio nuovo quando lo ne arriva lo farò vedere e niente ho fatto questo piccolissimo video a breve per avvisarvi che se non vedete video su youtube e perché dobbiamo finire i lavori di casa va bene ci rivediamo al prossimo video ciao ciao ciao